Sì, sì, vai, vai il custode, diceva il mio papà, è un bel mestiere. Ecco qua, Spurghi, 02 27 41. Allora, fate l'intervento vestiti così. Ne parliamo dopo che adesso ho un codice 24 da fare. Signor Angelo Custode, lei è licenziato. Va veramente cagare? Un robot. Un robot? Neanche uno dell'est. Un martino, un cingalerio, un clipino, un robot. Problemi, ma che è tutto liscio come l'olio? Sa cosa le dico io? Dica. Che lei può andare a cagare. ASAP, subiteli, immiglieteli. Sono robot di ultima generazione, prestazioni venti volte superiori al personale fisico. Io? Ma cosa c'entro io? Cara mia signora Isilano, voi non potete licenziarmi in pronto. Ciao! Wow wow wow! Il Custode è l'uomo su cui le fondamenta stesse del palazzo poggiano a loro incrollabile fiducia. Chiasca da qua da me! Ho capito, ho capito. Se in tu un mese non sono andata la sua, salta la mia di testa. Ma certo! One, two, three, four!